ma l'ho shottato quello schifoso voi avrò fatto headshot ma hai appena iniziato sto round? o appena... si non lo so non vedeva arrivare risombia ho detto ma che è finito il round oh ma che cazzo ma Giusu Cannavaro che neveciuolo vale 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 dove cazzo vai Dio merda dove vai con tutti quelli zombie? mi sono andata a incastrare come un figlio di una mignota che culo sti porco dio di gianni di colipando altamente che carissime cazzo c'ho un carpentiere non lo so basta che la stima è un giugno ma non così tol no buoni creatura melmosa cretto 5.000 vado a potenzialmente la pistola sto giro vado a collegare il 3 trasporto vediamo come la pistola potenziata il valle vuoi venire con me o vuoi stare a morire andiamo vai tanto è tornata a casa per quanto costa è meglio che funzioni ma l'arma giusta piazzi si chiama ma sono solenza due altre pistole le armi buon non lo so per nore hai dimenticato il braccio non l'ho distrutto tutto ho fatto una cosa una pellicola buono si si è buono poi la mettiamo al al coso no fammi il giro lungo vale vieni fammi il giro lungo amico 8 abbiamo più in mod c amico il stato buono in vero io ho portato l'arrivo il porto di nicolai il pari di bambini di astro 8.000 punti vendicante di paese posso manco non ho dimenticato uno via da me maledetto amo carica prendi vado a prendermi la speedcola a sto punto tanti auguri a me vado a prendermi la speedcola cercano di rubarci l'anima di nuovo giù suca perchè ora ci vedo così bene eh dopo i vip troppo vip vale già che hai lasciato un cane vivo che vado anzi no vaffanculo non me ne frega niente quando ho finito qui vado a fare colazione dove sono le ammo c'è stato uno c'è stato uno si ce ne stavo uno dove? questa arriva aspetta come vuoi quando vuoi mamma apri vado a no io vado solo a a fare il teletrasporto però se vuoi aprire andiamo ad aprire tanto sono solo due porte per la cassa andiamo ad aprire vai apri la prima ti apri la seconda poi quando è andiamo lì prendiamo la double tap io non so se è più ammirata la cosa qui creva il calcio nel culo vieni vale andiamo qua andiamo qua ma anche agro un po' con due vale con quale cattiveria ci si è andato sul colizzo poi c'è stato un botto di armi un botto di armi mo li dobbiamo che prendere forco il cane bastard mi sono andati là ma io sto utilizzando solo la pistola il pompa lo sto utilizzando davvero poco aspetta l'utilizzo un po' il pompa vabbè è forte però il pompa potenziato cazzo vado a far cazzo aspetta vengo vengo pure io aspettami anzi meglio di no che poi finiamo come prima va anzi no io provo con quel coso con quel coso è la double tap ah io sto prendendo l'oro ho finito i soldi complimenti vado a prendere la double perché questa roba deve fare così schifo andiamo ora ho un doppio tocco ma non una doppia io direi di correre ma anche tanto mi hai macchiato mi hai macchiato tutto all'uniforme questo è pre double bomb termine di corrida dimmi e mi hai scelto non è e mi hai scelto nordo anche io ma molto cazzo è forte sta pistola cioè è una bomba che prenderemo se ci arriva attento si vale ci sono andate giudice cartoncini chiesa la parola del mondo mi vado a farmi casa non devo fare nulla ora alla la pistola sono secco forse bene aiuta anzi no la casa lascio dopo il fatto del più voglio vedere io ho fatto un po' su amore su un po' di storia batti quindi ti vai a fare cassa io prendo il mitraglione a quello che c'è tu vediamo com'è vado il suo lavoro non è normale che è martello tutto comprovo e claymore così a casa tutto cazzo pesante parevolver porco dì aspetta mi voglio vederti che fare cassa ma la fatta l'intanto fai come cazzo di pare dove sei hai? non ti metti a far cassa il pp2.000 la vai allora aspetta anche con che c'è la pistola hai? quell'arma potenziale la pistola è potenziata? no e la potete inviare or con Dio dimmelo prima e te l'ho detto e io non sapevo manco che la mia avevi ma dott'è sta da Zeus? no vabbè pia no fa schifo un caricatore va sciottando zombie faccio uno e basta vai vai eh beh può fare solo quella ma che ti sei qua te oh bagascia ops l'ho ucciso vabbè namo goddio che gliel'ho mucchi di ossa m160 vediamo com'è potenziale che è meglio eh appena posso sì voglio provarla prima così senza non potenziata fx3 trasportarti tanti punti ce l'ho per potenziale quindi quando è appa a patto che non muoio la riesca a potenziare ma a patto che non muoio attento vale 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 c'è oh ma che cazzo il rumore è un po' troppo forte a mio parere ma non lo so vale vale oddio ho trovato un buco un varco non so come oddio no vale scappa vale scappa vale scappa vale però qui non possiamo girare in due cioè te lo dico chiaro e tondo tu te ne fai affanculo perché non possiamo girare in due qua muoviti a fare il giro vale ti muovi a fare il giro prima che muoio corri come la bestia un rischio gioco cambiare ma se non ce la fai io ti viedo sono morto riposo in pace ciao vale ti ho voluto bene ok culo grande vale mi fa bene mi fa bene senti io c'ho solo wolverine mi fa bene senti io c'ho solo wolverine uso wolverine c'è una bocca cosa ma tu mi lo so po' di merda cristo dio madonna che gioco di merda porco dio cos'è che mi ha chiuso dietro cristo parla motel con la cosa potenziale ma da fare cosa da prenderla fatti una vodka stasera dai stavo prendendo lmp 40 è buono ehm noi tu sei fa cassa boh ma io non posso andare giro con solo un pompa che sciotta perchè non faccio punti vale te l'ho già detto io me ne vado perchè se no muoiamo perchè tu non sai girare giri a cazzo di cane quindi io me ne vado me ne vado qua sotto a girare ma c'è un ammo non lo piglio stava pure a scomparire no ma io sono un coglione mi sono proprio buttato negli zombie mi sono buttato cioè ti giuro mi sono buttato negli zombie cioè questa è la peggior partita che ho mai fatto dai vale ce la fa tanto so tutti i zombettini cazzo vada manco muoiono sti stronzi vale non morire corri corri e basta corri e basta vale dietro vale dietro vale dietro vale dietro vale dietro oh sono sti cazzi vai vai poi appena spawno vado a farmi cassa prendo il jug ah no oh prendo il jug vado a far cassa che è un mostro mordo anch'io e ma proprio questa è forte se continuo così finirò gli incontri tre parti brutti mostri non morti va le accompagne vado a fare cassa aia vado a far cassa invece prendemi il coso invece prende il gioco vado a far cassa dai cani perfetto ho un compagno di questo mi scioltano Brava questa granata Voce infernale Ball 27 Cazzo di armare Vale 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 Prendono la revolver Vaffanculo Madonna De Dio Che culo Rossetto di merda Cazzo se scottavano Oh cazzo Prima prendi i miei soldi E poi sparisce Troppo come la mia guarda Vale Vale Sei inutile Spara Cristo che non spari Quella mp40 Trofico in culo Un'arma di merda Hai preso No Cosa Come sei morto Non mi hai scattato Ma perché ti sei andato a comprare L'MP40 Io mi dico Io non c'avevo armi Cioè mi hai sciottato Ma ero full vita Porco Dio No Ciao